ciao a tutti ragazzi bentornati un saluto da zack84 parto subito con l'annuncio più importante e confermo che allora venerdì sabato e domenica quindi 3 4 e 5 ci troverete a cartomics a milano e dico ci troverete perché oltre me ci saranno tutti gli altri ragazzi di books project e videogiochi per passione al cui vado a dare una mano e supporto su quindi se vedrete un l'osco individuo a gestire tornei di fifa di 17 e chiuso di asaf wars scusate 4 per l'isbox one teoricamente sarò io a meno che non mi spostano da un'altra parte ma al massimo chiedete di kree e vi sapranno dire dove sarà quindi chiunque voglia passare da un saluto benvenga anche a darmi due calci nel culo è uguale tutte le opinioni sono ben accetti quindi chi vuole lì e che dire ragazzi io ho deciso di partire con tisifone con il turno mi giuro che non me la sento proprio vado con fene secondo canon scusate dopo faremo anche l'altro a vi dico subito che questo ovviamente non sarà l'unico video che farò stasera ne farò altri solo che questo era per essere sicuro di darvi l'annuncio della fiera almeno domani sarà bello che carico perché io partirò già domani subito dopo lavoro per essere già su domani sera e essere pronto con i ragazzi a raga mentre questi parlano una cosa io non ho ancora preso horizon e me ne sto pentendo amaramente secondo me da quello che ho visto è un giocone adesso spero di riuscire a recuperare se dindi permettono e secondo me raga è da prendere potrebbe essere veramente il capolavoro di quest'anno secondo me da quello che ho visto poi mi baso molto su quello che ho visto per ora altra cosa è vero ho finito di guardare la saga di sanseya quella che vi dicevo e soul of soldier no forse questo è il gioco scusate non mi ricordo il nome sono un po oggi è stata un po' una giornata un po' pesante devo essere onesto comunque la saga che vi dicevo quella dei capi di dodo diviso in 13 puntate a me è piaciuto parecchio l'unica cosa che mi ha lasciato un po' lisa devo essere onesto è aia chissà chi è questo loco di video è stato il fatto che è tutto molto veloce aia dove sono finito sta spaccando ragazzi si vede che era un paio di geni che non c'è il gioco il fatto non posso parare praticamente mi sta maciullando mi sta disintegrando oltre che spaccando gli zebedei se devo essere onesto niente no non capisco non farlo niente ma massacrato ragazzi non c'è proprio verso provo a ritirarmi su al volo e affrontarlo niente però intero sova pensiero e poi come quando si gioca a calcio non diciamo sono le scarpe ma il campo no figliolo sono i piedi che in questo caso sono le mani si atena va bene rialzati mi ha dato tante di quelle legnate che la metà basta non vedo ora tra l'altro ragazzi di essere la vi dico la verità un po' ne è stufato già da prima e allora vai via testale della fenice se riesco a farti il fantasia dell'olico non sarebbe male ma non riesco questa dovrebbe essere ottima provo a farti la finisher niente da fare perché tu sei veramente uno zingano ma donna ma che male mica andato in fuori il figliolo qua giampaolo ma ancora ma ci dai una mollata ok a casa il primo combattimento dovrebbe essere andato vediamo gli altri sicuramente ci hanno altri combattimenti non ci credo che ne basta uno adesso scoprirà che è lui ah ma se è IT ma dai es che vogherà dobi ecco Eccolo lì Eccolo lì Vedete, quando facendo questo qua, mentre parte il video niente, sto cercando di gestire dei tornei di magica che dovranno esserci in là, che almeno mi porto avanti, fate voi come sa mio, si qua, cioè proprio, fate sentire clic 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 e clic e sono io Voi direte, ma quanto è serio questo ragazzo? Fai i video mentre organica dei torni di magica, si Guadagno tempo, faccio il possibile, scusate Grazie Grazie Ah basta? Finito qua? Vabbè, niente ragazzi, allora scusate, per questo è tutto Ci vediamo al prossimo video che a questo punto lo farò subito, visto che ce l'ho ancora un attimo di tempo Che al prossimo video facciamo Crystal contro Isaac Poi probabilmente stanotte farò Tisifone contro Nettuno se ne avrò voglia Se no cercherò di finire il capitolo appena tornerò, a parte di scherzi ragazzi, dalla fiera Voglio togliermi questa saga, perché poi voglio dedicarmi un po' anche a Berserk e a Kingdom in un modo un po' più intenso Purtroppo Kingdom ragazzi è bellissimo, l'unica cosa è che proprio per quel motivo io giocarmelo, godermelo pian piano E l'unico modo che ho di farlo è grosso modo a lunedì o le notti quando arrivo a casa che non sono stanco Quindi purtroppo gira chi rigira a lunedì Quindi ragazzi per ora un saluto, spero vivamente di vedervi là e la maggior parte spero anche di conoscervi di persona Siete tutti benvenuti, sia chiaro, venite a farvi due partite, a farvi due risate E via, e a presto al prossimo video, ciao ciao ragazzi, saluto